Grazie a tutti. Il diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Questo è l'articolo 11 della Carta europea, dell'Unione europea, che vale quindi in tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione europea. L'ho voluta rileggere perché forse, al di là di quello che ognuno di noi può pensare dell'Unione europea, dell'Euro e di tante altre cose, fissa dei criteri anche di riferimento che non so se meritano anche eventualmente una riflessione a proposito di infrazioni che l'Italia commette rispetto al quadro europeo. Io sarò veramente molto rapido. Partirei dall'ultimo rapporto dei reporter San Frontier 2014, che ha messo l'Italia nella classifica della libertà di stampa al 73esimo posto. Nell'arco di un anno, quindi tra il 2013 e il 2014, il nostro Paese è scivolato in basso di 24 posti. Nel 2014 in Italia hanno subito minacce di vario tipo 506 giornalisti. Nel dettaglio 47 sono stati fisicamente aggrediti, 139 hanno ricevuto avvertimenti minacciosi, 22 hanno subito dei danneggiamenti, e poi ci sono, fatto non trascurabile soprattutto visto che qui si parla molto di diritto, 276 denunce e azioni legali palesemente strumentali. Io credo che stasera, visto che è bene discutere, discutiamo, io sono venuto qui stasera a farmi e soprattutto a farvi almeno tre domande. La prima è questa, è davvero così azzardato sostenere, per esempio, che la libertà di movimento delle informazioni sia stata in qualche modo in Italia, non solo a Padova, irrimediabilmente compromessa da una sorta di sussidiarietà, parola che va molto di moda, fra le lobby e i poteri. La seconda domanda che vi farei, ed è bene che ci facciamo tutti insieme, è com'è immaginabile il diritto al dissenso in uno scenario che sul versante che riguarda appunto l'informazione, assomiglia sempre più a una sorta di dittatura democratica? E infine, qual è l'effettivo margine proprio di manovra per quelli che vengono definiti operatori dei media, comprendendo quindi tutti quelli che si danno da fare su questo fronte al di là della tessera o non della tessera o del colore della tessera? Dicevo, qual è l'effettivo margine di manovra quando l'azione giudiziaria, per di più senza bisogno neanche di farla in carta bollata, funziona come dissuasione, minaccia e pressione? Dico questo perché una volta si faceva il conto soltanto con le querele per diffamazione, ormai invece, come nel processo Notav, si va a richiesti risarcimenti economici sempre più alti, si passa attraverso gli esposti all'ordine dei giornalisti, a tutta una serie di altre azioni che servono esattamente per, come dire, sbilanciare, mettiamo così, il rapporto che c'è tra chi lavora nel mondo dell'informazione e chi a volte finisce sotto una lente di ingrandimento sgradita. Io finisco molto rapidamente con una citazione e una micro riflessione. La citazione è questa, non avere un pensiero e saperlo esprimere è questo che fa di qualcuno un giornalista. Lo diceva Carl Krauss un secolo fa e forse per qualcuno, a distanza di un secolo, può suonare come una profezia. La riflessione che ho fatto venendo qui è questa. Credo che molti di noi conoscano bene lo stato sociale inteso come gruppo musicale. e da loro abbiamo imparato abbastanza bene, ci hanno insegnato come si fa con la speranza. Quindi salterai a pie pari questo aspetto del dover avere per forza una speranza. Piuttosto invece mi chiedo e vi chiedo come riflessione finale, se non è il caso anche di uscire dal recinto proprio delle professioni e cominciare a immaginare invece una sorta di autoproduzione dell'informazione, magari cominciando in questa città. Qualche piccolo tentativo è stato anche fatto, mi riferisco soprattutto a alcune cose che potete trovare nel sito di bioslab.org e che secondo me è bene che siano riprese, approfondite e quant'altro, ma magari su questo si discute da qualche altra parte. Grazie. 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 Grazie a tutti